VASIBO Europe nasce praticamente dieci anni fa come vendor di tecnologie interattive per la scuola. Siamo partiti, siamo nati con la classica LIM e il videoproiettore e adesso chiaramente siamo arrivati ad essere leader di mercato sulla parte della tecnologia interattiva, dei monitor interattivi W che vedete dietro alle mie spalle. VASIBO come detto è un vendor quindi forniamo soluzioni interattive o comunque tecnologie per la scuola, anche arredo in realtà, arredo collaborativo per appunto andare ad allestire nuovi ambienti di apprendimento innovativi. A Didacta siamo per presentare le nostre novità per le azioni 1 e 2 del PNRR di Scuola 4.0 andando appunto a presentare quelle che sono le innovazioni, le nostre proposte, la nostra visione per la digitalizzazione degli ambienti in ambito scuola. Quest'anno presentiamo a Didacta un nuovo prodotto, una penna digitale che abbiamo pensato al fine di digitalizzare tutti quelli che sono gli appunti che gli studenti o i docenti prendono durante tutto il corso dell'anno. Questa penna non fa altro che digitalizzare un tratto, quindi qualsiasi cosa noi scriviamo su un foglio di carta proprietario ovviamente, quindi per esempio Didacta, in automatico su un dispositivo o su un cloud in maniera digitale. Possiamo in maniera automatica condividere subito i nostri appunti tramite whatsapp o tramite mail. Abbiamo la possibilità, mentre digitalizziamo un tratto, di registrare un audio. È uno strumento che ci permette di rivoluzionare a tutti gli effetti la ricerca degli appunti, perché possiamo anche inserire dei tag sugli appunti che abbiamo preso.